Salve ragazzi, volevo correggere con voi questa esercitazione perché controllando i compiti che avete svolto mi sono accorta che ci sono molti di voi che hanno fatto tanta tanta confusione. Allora, dando per scontato che l'abbiate letta perché l'abbiamo insomma vista e quindi dovreste averla letta a casa e anche ascoltata, andiamo adesso a vedere quali sono le domande a cui voi dovete rispondere. Le evidenziamo un attimo, eccole. Allora, le domande erano queste, le prime sette erano domande di comprensione del testo, mentre l'ultima era una domanda di carattere personale a cui dovete rispondere ognuno in base alle proprie opinioni riguardo al testo letto. Allora, la prima cosa da fare quando voi dovete svolgere un compito di questo genere è controllare di aver compreso correttamente ognuna delle domande. Tutte queste domande iniziano, come vedete, tranne l'ultima che per il momento lasceremo da parte, con una parola interrogativa che noi chiamiamo in inglese question word. Queste parole sono la prima cosa che voi dovete comprendere, cioè sapere cosa vi chiede il testo. Quindi, se la domanda inizia con what e poi c'è il verbo essere, quindi ci chiede che cos'è qualcosa. Se la domanda inizia con how long, abbiamo detto che how long può avere due significati. Può significare quanto è lungo, quindi fisicamente quanto è lungo qualcosa, per esempio quanto è lungo un fiume, no? Oppure quanto tempo dura o si impiega per fare qualcosa. In questo caso è il secondo di questi significati, lo capiamo, dal verbo, che è il verbo last. Where, ok, pensiamo di saperlo che significa dove, quindi dobbiamo cercare un luogo. What jobs did he have to do? Qui abbiamo di nuovo quali lavori, e quindi dobbiamo sicuramente indicare il nome dell'attività o allencare le attività che lui ha svolto. Di nuovo where, di nuovo what, anche qui di nuovo un oggetto. E di nuovo what, in questo caso non si tratta di un oggetto, ma siccome ci chiede che cosa ha intenzione di studiare, saranno sicuramente delle materie, no? Degli argomenti di studio. Ok, viste le domande, adesso andiamo ad analizzarle una per una e a trovare all'interno del testo la risposta corretta, cosa che molti di voi non sono riusciti a fare. Quindi partiamo dalla prima domanda. What is work experience? Andiamo a vedere nel testo, questo è il testo, lo ingrandiamo un attimo, e quello che noi dobbiamo andare a cercare non è altro che la risposta a questa domanda. E quindi, vediamo, ecco, in questa prima parte ci dice, ci fa diciamo un'introduzione, e dice quale lavoro volete fare? The world of work is often confusing. And isn't easy to choose a career. Work experience can help you with these difficult decisions. Quindi già ci dice che l'esperienza lavorativa nell'ambito dell'attività scolastica, nel periodo, diciamo, di frequenza della scuola, può aiutare a prendere delle decisioni difficili. Ma che cos'è? Ce lo dice qui. Work experience is an opportunity for you to learn about different careers. Ovviamente questo for you è riferito agli studenti che seguono, diciamo, che seguono le lezioni in questa scuola, che parteciperanno a questa attività lavorativa, quindi non siete voi. Quindi nel momento in cui andate a rispondere, questo you deve diventare qualcos'altro. Non siete voi, ma saranno gli studenti. Quindi, work experience is an opportunity for the students to learn about different careers. E questa è la risposta alla domanda numero uno. Ok? Andiamo adesso di nuovo a vedere invece le domande, Ritorniamo a vedere le domande e vediamo la seconda, cerchiamo di individuare la risposta. La seconda domanda ci chiede How long does work experience usually last? Quando noi analizziamo una domanda di questo genere, dobbiamo capire cosa ci chiede. Dobbiamo innanzitutto capire di chi parliamo, qual è il soggetto. Ovviamente il soggetto, eccolo, work experience. E il verbo è questo, last. Quindi, quanto tempo, last vuol dire durare, dura l'esperienza lavorativa? Di solito, la risposta a questa domanda nel testo si trova, vediamo, in questa parte qui. Diciamo, sempre nella parte iniziale, no? Dove dà una descrizione della work experience, di cosa rappresenta. Quindi, la evidenziamo e dice Ecco qui la risposta. Troviamo il nostro verbo last. Vedete, lo ritroviamo. It usually lasts one or two weeks and takes place from the first of March to the 30th of April. Non è necessario che scriviamo It takes place from the first of March to the 30th of April, ma se ce lo mettiamo non succede niente, ma la risposta è questa. It usually lasts one or two weeks. E questa dunque era la risposta alla nostra domanda. Torniamo adesso a vedere la terza domanda. Where did Scott do his work experience? Qui ci chiede una cosa semplicissima. Where? Dove? Quindi dobbiamo cercare il posto dove Scott ha svolto la sua esperienza lavorativa. E siccome Scott parla in questo, diciamo, spazio qua, quello che lui dice sta qui e sarà qui dentro, per forza. Quindi se noi andiamo a guardare, la prima frase è già la nostra risposta. I did my work experience at a big garden center near my home. Chiaramente qui Scott parla in prima persona, perché è lui che parla di sé. Se noi dobbiamo rispondere alla domanda, torniamoci un attimo alla domanda di prima. Where did Scott do his work experience? Ovviamente il soggetto della nostra risposta deve essere Scott o deve essere he. Quindi non sarà I did my work experience, ma he did his work experience at a big garden center near his house. Casa sua. Quindi la sua esperienza vicino casa sua. Quindi quello che è by qui e my qui diventerà his, perché parliamo in terza persona. Questo è un errore che hanno fatto molti di voi. Andiamo a vedere la terza domanda, la quarta forse, la quarta domanda. What jobs did he have to do? Allora, attenzione, qui ci chiede quali lavori ha dovuto fare. Did he have to do? Ha dovuto fare. Quindi noi dobbiamo andare a cercare quali attività durante il suo periodo di esperienza lavorativa lui ha dovuto svolgere. Il verbo qui è have to. Quindi ci dobbiamo ricordare che have to vuol dire dovere, implica un obbligo, se vi ricordate, ed è sempre seguito dal verbo alla forma base. Quindi non da un verbo coniugato o messo al passato, come hanno avuto alcuni di voi. Quindi andiamo a cercare la risposta all'interno del testo e qui racconta, insomma, the first day I was very nervous, my supervisor gave me a tour of the center, eccetera, eccetera. E qui spiega che cosa ha dovuto fare. I had a lot to do at the garden center. I watered the plants and I helped the customers. When they bought plants, I carried them to their cars. Allora, come vedete, lui dice, ho dovuto fare molte cose. Ho innaffiato le piante, ho aiutato i clienti, ho portato le piante che comperavano sulle loro auto, automobili. Allora, voi avete due possibilità. O rispondete, semplicemente come nel testo, e quindi mettete al posto di I, he, e dite, he watered the plants and helped the customers. oppure, se usate il verbo che era presente nella domanda, che vi ricordate, era il verbo have to, quindi dovete dire, ma se noi dobbiamo mettere he had to, non ci possiamo mettere dopo he had to watered, perché watered è passato. Quindi o ci mettiamo he had to, doveva innaffiare, o innaffiava, quindi o he had to water, o he watered, ma insieme questi due, no. E quindi qui un altro errore che molti avete fatto. Vediamo adesso la quinta domanda. Where did either do her work experience? Anche qui la domanda è introdotta da where, quindi dobbiamo dire, dobbiamo trovare all'interno del testo l'informazione nella quale ci dice dove lei ha fatto questa esperienza. Anche qui è facile, perché l'andiamo a cercare nel testo dove parla di either, giustamente. E, ovviamente, come abbiamo visto prima, la risposta sta qui. My work experience was at a large pharmacy and earthen beauty store. Questo è quello che dice, ovviamente, either. Voi dovete, però, rispondere alla domanda. E la domanda chiedeva Where did either do her work experience? Quindi dovremmo rispondere dicendo Either did her work experience at a large pharmacy and earthen beauty store. Ok? Semplicemente così, prendendo il soggetto e il verbo dalla domanda e trovando poi il contenuto della risposta all'interno del testo. Andiamo a vedere la domanda successiva, la numero 6. What did her supervisor give her when she finished her work experience? Allora, qui vuole sapere che cosa le ha dato, ha dato lei, chi, il suo supervisor, cioè la persona che, diciamo, si occupava di lei, supervisore, diciamo, colui che, diciamo, faceva un po' da tutor durante la sua esperienza lavorativa, quando ha finito l'esperienza di lavoro. E allora, di nuovo, siamo nel brano che riguarda either e andiamo a cercare When I finished my work experience, ecco, My supervisor gave me a thank you card and a voucher for the store. Allora, anche qui, lei parla in prima persona perché ovviamente sta scrivendo la sua esperienza, ma voi dovete rispondere alla domanda che vi chiede What did her supervisor give her? Quindi, prendiamo il soggetto Her supervisor diventerà e non my Her supervisor gave her, non me, a thank you card and a voucher for the store when she finished her work experience. Cioè, queste parole, quando io passo dalla prima alla terza persona, vanno tutte modificate. Quindi, Her supervisor gave her a thank you card and a voucher for the store when she finished her work experience. Ecco. Andiamo adesso a concludere con l'ultima domanda di quelle di comprensione del testo che era la numero 7. What is she going to study at university? Qui è semplicissimo. Cosa? Che cosa? Ha intenzione. l'abbiamo studiato, questo. Di studiare all'università. E quindi, che cosa chiede? Vuole sapere cosa andrà a studiare. Molti hanno messo chemistry, biology, maths. Ma è sbagliato. Perché qui lei dice I'm going to do chemistry, biology and maths for my A-level exams. And then, e quindi la nostra risposta è qui, I'm going to study medicine and pharmacy at the University of Nottingham. Quindi se la risposta è questa, noi, come abbiamo già visto precedentemente, dobbiamo stare attenti. Il soggetto I diventa she nella risposta. quindi she's going to study medicine and pharmacy at the University of Nottingham. E con questo abbiamo concluso. L'ultima domanda riguardava la vostra opinione su questo tipo di esperienza. Come vi avevo già detto, quando dovete esprimere un'opinione, non dite for me, in inglese non si dice for me, si dice in my opinion, oppure I think. Innanzitutto, la prima domanda è Is work experience a good idea for young people? Why, why not? Quindi, voi dovrete prima di tutto dire se per voi è una buona idea o no. Quindi, in my opinion, work experience is a good idea for young people. Because, e poi spiegate il perché. Perché è un'opportunità per conoscere determinate attività lavorative, farsi un'idea su quello che può essere poi, possono essere scelte per il futuro. E se no, spiegate perché no. E anche lì, poi lo vedrete nella correzione che ho fatto a ciascuno di voi, perché quella poi è una cosa personale, quali sono comunque gli elementi che dovete modificare. Devono essere risposte pertinenti con la domanda. Perché se voi rispondete come ha fatto qualcuno, yes, work experience is a good idea because they work very well, che significa? non significa niente, cioè non ha senso all'interno di questo contesto. Quindi dovete pensare e poi scrivere risposte significative. Ok, per concludere vi faccio vedere la correzione relativa a questo esercizio. Quindi vi mostro tutte le risposte così come dovevano essere. Lentamente ve le faccio scorrere. No. 1 Work experience is an opportunity to learn about different careers. No. 2 Work experience usually lasts one or two weeks. No. 3 Scott did his work experience at a big garden center near his home. No. 4 He had to water the plants, help customers and carry plants to the customers' cars. No. 5 He either did a work experience at the pharmacy, which was also a health and beauty store. No. 6 He either supervised or gave her a thank you card and a voucher for the store when she finished her work experience. No. 7 He either is going to study medicine or pharmacy at university. Con questo abbiamo concluso. Nel momento in cui io vi riconsegnerò il vostro lavoro sarà vostra cura poi correggere nella modo che abbiamo detto e prestando attenzione a quello che fate. D'accordo? Arrivederci e alla prossima. Ciao ciao!